credo che non c'è tempo per fare discussione quindi penso che sia giusto chiudere ringrazio per aver ristretto ma per aver detto delle cose molto importanti e peraltro una bella sintesi a fine di questo convegno c'è entrato perfettamente passerei la parola a Gianni così chiude io sono il depositario delle chiavi comunque ovviamente un ringraziamento a tutti soprattutto ai super resistenti che ancora sono qui da stamattina significa questo che erano e sono veramente interessati all'argomento grazie a tutti i relatori e i moderatori che hanno consentito lo svolgimento di questo interessante mi sembra convegno e grazie in particolare a tutte le dite che ci hanno sostenuto da un punto di vista economico ma non solo anche culturale perché questi interventi che avevano saputo e il sentito erano tutti interessantissimi e ovviamente non potevano partire da uno specialista da un medico, da un ingegnere e qui è il dialogo, l'interazione con l'industria con le altre, diciamo, specialisti qui, diciamo che forse la cosa più importante è stata proprio questa questa interazione, interazione tra le diverse figure dai progettisti, dai medici, alle case alle case produttrici quindi il risultato, aspetta a voi ovviamente dirlo per noi è stato molto interessante molto appassionante un po' impegnativo per alcuni aspetti ma forse lo rifaremmo, non so Paolo grazie veramente a tutti per essere qui a te tutto grazie ovviamente un ringraziamento particolare e alla segreteria organizzativa a tutti i ragazzi che ci hanno assistito in tutta questa giornata in tutto questo lavoro grazie grazie